Allora, benvenuti ascoltatori di Radio Vue, anzi visitatori, come neanche già fai, visitatori di Radio Vue, siamo qui nella press hall, puoi fare un giro di camera, dove noi tutti i giornalisti si ritrovano. Come potete vedere adesso le poltroncine sono tutte girate verso degli schermi che ci sono dietro di noi, perché quando c'è Red Carpet tutti guardano il Red Carpet o le conferenze stampa. Qui ci ritroviamo noi nerd giornalisti a fare le scritte. Ieri purtroppo non abbiamo potuto fare subito con impressione a caldo il nostro vlog per il motivo semplice che abbiamo finito a mezzanotte o due, cosa totalmente foglie, tutte le nostre facce molto sveglie. Che cosa siamo andati a vedere, il primo film siamo andati a vedere ieri, Chiara? Ghesea, Tales, della regista iraniana Bani Etemad. Guarda come pronuncia bene qua, perché? Mi guardate crederci. Capito io solo scriverci a questo 22.000. Questa regista in pratica ha scelto di seguire le storie di persone comuni iraniane, quindi nella sua terra d'origine, quindi un tassista oppure ragazze donne del centro d'accoglienza, un vecchio impiegato in pensione e raccontare appunto le loro vite che si intrecciano in modo quasi casuale, cioè un passaggio rapido nelle diverse scene da un personaggio all'altro. Ed è stato molto interessante. E' una cosa, intanto ti ricordi il voto che abbiamo dato? Il voto era il 26... Già lì mezzo alla regia? 26, secondo me. Secondo me, stiamo a confondere. Eh, senti, ne abbiamo andati troppi ormai di voti, mi comincio a confonderli. Per farla pagendoli tutti. Io me li sono segnati, però buono me li ricordo. La voce che sentite è dall'altro capo della camera e che era gaiata. Sì, ormai ci vedo doppio dopo tutti questi film. Devo ancora mangiare ed è... sono le 11, ma vabbè. Sto facendo una bastetta. Prego, vada. No, perché lo carico io. La più interessante che ha detto ora in comprensa stampa, che l'ha seguita. Sì, adesso la più interessante penso sia quando parlava della politica iraniana, che è molto svantaggiosa per i registi iraniani, e che a volte appunto non permette di fare film. E lei dice, io per questo film sono riuscita invece a realizzarlo, sono molto contenta, non voglio parlare di difficoltà vissute, voglio condividere la mia gioia con voi. Poi il secondo film, questo è il film di concorso, il secondo film di concorso che abbiamo visto ieri è stato La Ransion de la Gouart. Spero che il mio francese sia più migliore. Quello che ho sbagliato io. Ciò che corrigeremo. Corrigeremo, molto bene. Ciò che corrigeremo, è molto bene. di Alex Javier Rouba, che narra la storia della trafugazione e del trafugamento, come si dirà mai? Quando hanno rubato il pedaglio del purgato. Della salma di Charlie Cepin. Charlie Cepin, da parte di due emigrati in Svizzera. Stavamo discutendo molto di questo film, non è piaciuto la critica italiana, io trovo che le citazioni di Cepin c'erano più o meno visibili. È un film godibile, però non rimarrà certo negli annali della storia del calcio. Io sono andata a vedere reality, poi, di quintenne dubbie e terrificante. Nel senso che, come ho detto già in collegamento, è un'inception che fa ridere. Questo registro parte in maniera molto lineare e poi si dà completamente in una versione... Ma guardi se stai ripetendo un po', scusami. Perché, sapete, Chiara si sta tipo addormentando, quindi la macchina scende. Non è vero, siete perfettamente a fuoco e ve ne renderete conto non appena lo vedrete. Comunque, a un certo punto, queste storie si collegano una all'altra in maniera totalmente random. Non sai che cosa hai visto, io l'ho rimandato assolutamente a settembre. Poi, Spice è andata a vedere Melbourne, le è piaciuto molto, invece Chiara è andata a vedere Dearest Canide, probabilmente si pronuncerà, la storia è molto toccante, dice, di questi genitori che perdono un figlio e poi lo ritrovano dal tipico gusto orientale. Sì, molto bello. Poteva essere un 30 e invece si ha perso verso il finale. Poi, siamo andati a vedere 99 Homes, dopo una pausa di circa 6 minuti, siamo andati a vedere 99 Homes. 99 Homes è il tipo di film intelligente che non si applica. Chiaramente è un film che parte molto bene, devo dire, ma finisce... Andrew Garfield, no? No, Shannon invece. Ma Shannon potrebbe tranquillamente fare anche la... questa poltroncina sarebbe bellissima. E credo sia un autore fantastico che poi ritorna in un film che abbiamo visto oggi. 99 Homes finisce... è molto dubbioso perché la scelta che fa il protagonista è quello di prima essere asservito e poi decidere di fare la cosa giusta. Sì. No, assolutamente no. O si fa la cosa giusta o si è asserviti. Non è che cambi sponda del torrente o parrocchio. Invece ti dico una parola abbastanza succosa su Inkeller, il film che abbiamo visto. La domanda vera è... Che cosa avete nelle vostre cantine? Perché potrebbe dire molto della vostra personalità e delle vostre torbe psichiche. Abbiamo visto questo documentario austriaco di un autore, Ulrich Seidal, che si chiama Inkeller, vuol dire in cantina, e dove appunto riprende queste persone e le loro ossessioni che tengono nascoste le loro cantine. Se voi a casa avete scarte e vestiti vecchi, sì, come tutti. Non vi preoccupateci, te lo ormai. Esatto. C'è gente che ha polingue. In questo documentario gente aveva il poligono di tiro, gente aveva la love room, cose allucinanti. Invece chi era andata a vedere, mi dicevi Heavens Know What, Giulia ci diceva che balle questo film, mentre me lo raccontavo ho capito solo questo muore bruciato. Sì, c'è uno che muore bruciato. In realtà non era così male come il film. Diciamo che è una storia banalotta, realizzata in maniera molto interessante registicamente, per cui si è salvato. Però ormai di amori disperati che finiscono in tragedia ne abbiamo sentiti troppi. Tanti, troppi. E ora penseremo... Noi e no. Noi e no vogliamo più... Più cantine. Più cantine. Più cantine. Più cantine. in diretta e nel circuito raduni. Oppure seguire i nostri tweet su... at radiobwe.it o at vivipadova.it Leggere i nostri articoli su vivipadova. Ho detto tutto? No. Manca anche la pagina Facebook, dove noi postiamo foto e la pagina, chiaramente, YouTube, dove postiamo i video. Quindi ascoltateci. Grazie.